Immobile, 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 sta per entrare nelle rigore, immobile, immobile per Caicedo, Caicedo è lì in tiro! GOOOOOO! GOOOOOO! IL GRAFFIO! TE LA VANZERA! FELIPE! CAIZEDO! ASSIST! DI PERFETTA DICIRA IMMOBILE! E' CON LA VUNTA DEL SINISTRO! BANTEMUSSO! LEZZIO 1! UDIRESE 0! IL GRAFFIO DI FELIPE! CAIZEDO! E andiamo! L'ASSISTENZA PERFETTA DIMMOBILE! STOFFA DI SINISTRO! E' CON LA VUNTA DEL PIEDE! SONO DA VUSSO! LEZZIO 1! UDIRESE 0! DAIE! FELIPE! CAIZEDO! CACIO D'ANGOLO! ATTENZIONE! IL PALLONE RIMALE LÍ! NON E' POSSIBILE! VALE! VEDIAMO CHE' SUCCESSO! GOOOOOO! 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 Ancora il graffio della battaglia autorete Autorete di Vilmoz Lazio 2 Udinese 0 Sugli sviluppi del calcio d'angolo È proprio Vilmoz a deviare il pallone della propria rete Lazio 2 Udinese 0 Taglia Lazio